All'artista assistenzialista, buona serata a tutti, questa giornata ci troviamo appunto all'idola Sardella a Scalea e parliamo della partita della Coppa del Re di Spagna. Signor Ascolto, buona serata a tutti, attraverso a Caliente allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid dove appunto il Real Madrid e il Barcellona questa sera si affronteranno per la finalissima della Coppa del Re di Spagna nella gara di andata e subito le formazioni il Real Madrid di Benito Floresci in campo con Buio, Cento Cavaccio, Saci, Saldana e Gordiglio, Butreghegno, Bicci, Lugo, Sánchez, Gallego e Valdano. Il Barcellona di Joan Cruyff che ha fatto presente insomma molta pretattica fino all'ultimo risponde con su miseretta Nando Requela, Cuglio Alberto, Koeman e Aleranko, con cui c'è Bacchero, Stoic, Romario e Beggini Stein. L'arbitro è il danese Mikkelsen coadjuvato dai suoi connazionali Tausend e Pedersen. In sovraimpressione la pachina del Real Madrid con il numero 12 il portiere Haro, con il numero 16 Teddillo, il 14 Baccheda, il 15 Villarroca e il numero 16 il dipote appunto della celebre ala del Real Madrid anni 60. Cepto appunto trattasi del numero 16 Paco Giorente.